La vostra presenza così numerosa, non mi vergogno a dirlo, ci aiuta anche a superare un sentimento che a volte proviamo noi diplomatici di frustrazione. Frustrazione perché nel mondo di oggi dove l'interno e l'esterno sono così strettamente interconnessi, dove noi diplomatici sentiamo così forte la responsabilità di dover incidere sulla vita del cittadino, di incidere sulla crescita, sulla sicurezza, sulla stabilità del nostro paese, ecco a volte ci rendiamo conto che non sempre il cittadino ci sente vicini, non sempre riusciamo a far comprendere quello che è il nostro impegno proprio per il paese. E allora oggi noi ne vogliamo parlare con un evento che abbiamo chiamato di proiezione esterna, con la società civile, con il mondo dell'industria, con il mondo della comunicazione, per un confronto leale e soprattutto di contenuto. E lo faremo a porte chiuse con il Presidente della Repubblica, con il nostro Ministro, nelle giornate della conferenza degli ambasciatori. Oggi qui rifletteremo sul ruolo della diplomazia, ma Alessandra Sardoni mi ha introdotto come il Segretario Generale. Forse molti di voi si chiederanno chi è Costei o chi è Costui. Il Segretario Generale è una figura prevista dall'ordinamento del Ministero degli Estri, siamo fra i pochi ad avere questa figura, che ha il compito di coadiuvare il Ministro nell'indirizzo della politica estera italiana e soprattutto sovraintende l'amministrazione per garantire unicità di indirizzo e di azione. E lo fa avvalendosi di una squadra di professionisti che sono all'estero e che sono al Ministero nel Consiglio di Amministrazione per portare ad unicità non soltanto la politica estera intesa come elaborazione di contenuti da parte del nostro Ministero, ma cerca di mettere a sistema anche i contenuti delle altre amministrazioni, della società civile, del mondo dell'industria e di quant'altro. Questo è il mio compito che faccio con orgoglio e soprattutto con grande riconoscenza per tutti gli ambasciatori che mi coadiuvano in questo esercizio. È giusto domandarsi che cos'è la diplomazia. Ci sono molti cliché, si potrebbe semplicemente dire che è un'arte storica. Quando sono entrata in carriera un Segretario Generale dell'epoca mi disse ricordati che il diplomatico non sa niente di tutto, a differenza degli esperti che sono molto importanti, che sanno tutto di niente. Questo dilemma ancora ci perseguita nei giorni d'oggi. Oppure Winston Churchill diceva, diplomacy is the art of telling people how to go to hell in such a way that they would ask for directions. Questo forse è vero anche oggi, siamo bravi in questo. Tuttavia è giusto chiedersi oggi qual è il significato della diplomazia. Si parla di crisi della diplomazia, si parla di irrilevanza. Non vi stuperà se noi cercheremo di dimostrare esattamente il contrario. È giusto interrogarsi di cosa sia la diplomazia oggi in un mondo di profondo cambiamento. Vediamo il rinascere di tendenze protezioniste, vediamo l'aumento delle diseguaglianze economiche e sociali, non solamente nei paesi in via di sviluppo, ma anche in Italia e certamente anche in Europa. Vediamo una certa carenza di legittimità del sistema multilaterale. Basti pensare alle critiche di Trump al sistema onusiano. Vediamo che cominciano a riprendere peso i fattori geostrategici, i territori, le identità, i confini e quant'altro. Vediamo che dopo 30 anni dalla fine della guerra fredda rinasce la minaccia nucleare. Basta pensare alla Corea del Nord piuttosto che alla denuncia da parte della Russia dalla sospensione del trattato INF. Ecco, la diplomazia ha il compito di navigare, di tenere la barra dritta interpretando con coerenza questi fenomeni. L'Italia è caratterizzata dalla continuità e della coerenza della propria politica estera. Una politica estera che si basa su alcuni principi fondamentali. La denuncia del ricorso alle armi, il dialogo, il rispetto dei diritti umani, l'apertura al commercio e quindi il rifiuto del protezionismo, non fosse altro perché siamo un paese fortemente esportatore, ma anche l'Europa, il forte ancoraggio all'Europa, le relazioni transatlantiche e il Mediterraneo e attraverso il Mediterraneo l'Africa. In questo contesto oggi cercheremo di ridefinire l'interesse nazionale o gli interessi nazionali. E ridefinire gli interessi non vuol dire abbandonare i binari, anzi, l'ho appena detto, ci sono alcuni punti fermi della nostra politica estera. Tutta diria, ridefinire l'interesse nazionale vuol dire costruire, incorporando dei dati oggettivi e effettuando una valutazione che non può che essere soggettiva. La diplomazia è la risposta a tutto questo, anche nei contesti multilaterali dove oggi sempre più i paesi portano istanze nazionali. Il contesto infatti in cui ci muoviamo è sempre più competitivo e l'interesse nazionale che cercheremo oggi di declinare parte dal presupposto che bisogna affrontare un metodo. Il metodo è quello della capacità di individuare le priorità che dobbiamo sottoporre al governo, ma è anche un metodo che deve farci focalizzare sui contenuti. E ripeto, i contenuti sono l'Europa, la diplomazia contribuisce al processo legislativo e decisionale dell'Unione Europea, non dobbiamo dimenticarcelo. Pensiamo al piano finanziario plunernale, pensiamo alla Brexit e alle sue costruenze anche per i cittadini italiani. Pensiamo al fatto che il 64% degli scambi che vi sono in Unione Europea sono fatti fra paesi dell'Unione Europea. E pensiamo anche al fatto che l'Unione Europea è il terzo protagonista mondiale in termini di scambi commerciali. Il Mediterraneo, un Mediterraneo che va dal Marocco fino alla Turchia e lo sottolineo fino alla Turchia, passando ovviamente da Algeria, da Libia, da Tunisia, da Egitto. Non sottovalutiamo l'importanza strategica che questi paesi hanno per il nostro paese. La centralità della diplomazia quindi si articola attraverso questi assi che ho appena delineato, Unione Europea, Mediterraneo, Africa, che offrono naturalmente sfide. Sono note a tutte le crisi che si sviluppano in questa area, ma anche grandi opportunità. E penso naturalmente all'area, all'Africa, un'area nella quale noi ci affacciamo in un'ottica di partenariato, di cooperazione allo sviluppo, convinti come siamo che il benessere degli altri porta benessere anche e crescita al nostro stesso paese. Investire in diplomazia quindi non è investire in un bene di lusso, anzi è una necessità perché contribuisce alla sicurezza e alla stabilità di tutti noi. Noi abbiamo il compito come ambasciatori, come diplomatici, di anticipare, di percepire i cambiamenti che si stanno per realizzare. Noi dobbiamo tradurli, dobbiamo interpretarli e dobbiamo intercettare i fenomeni che si avverano nel mondo. Dobbiamo poi fare in modo che le nostre informazioni possano essere fruite dagli utenti, tutti, dalla società civile, dalle amministrazioni, da chi ci chiede informazioni piuttosto che aiuto, piuttosto che indirizzo. E questo perché dobbiamo comprendere il nesso che esiste fra politica estera e vita quotidiana, la vita del cittadino. Per fare tutto questo vi è naturalmente una struttura alla farnesina piuttosto articolata, ma abbiamo soprattutto una delle reti più ampie al mondo con 130 ambasciate e rappresentanze permanenti e con circa 300 strutture. Siamo orgogliosi di questa rete che per noi è il vero, vero valore aggiunto del Ministero degli Esteri e per questo chiediamo risorse e chiediamo impegno alle istituzioni affinché la nostra diplomazia possa continuare a esserci, a esserci in tutto il mondo. La diplomazia infatti è il biglietto da visita del nostro paese. Noi rivendichiamo la nostra buona amministrazione in un momento in cui c'è estremamente bisogno di buona amministrazione. Una buona amministrazione che deriva dal fatto che noi entriamo in carriera attraverso un concorso che è fra i più difficili ma che tutti i giorni si dimostra essere lo strumento più valido per selezionare le nuove generazioni. È difficile ma chi ce la fa è preparato e continua a formarsi nel corso di tutta la carriera e noi siamo formati alla lealtà, al servizio dello Stato, a essere preparati per affrontare le sfide che quotidianamente dobbiamo affrontare. Questa si chiama professionalità e noi la rivendichiamo. C'è bisogno di una rete e c'è bisogno di un centro. Io insisto da anni che bisogna superare la dicotomia fra centro e rete. In ogni rete che si rispetta vi è un centro da qualche parte che deve elaborare una strategia, deve dare impulso e conforto a chi fa parte di questa rete. Noi come diplomatici non siamo maggioranza, non siamo opposizione e isoliamo chi non accetta queste regole, deve essere ben chiaro, ma al tempo stesso chiediamo rispetto per la nostra indipendenza, per la nostra lealtà allo Stato. Com'è cambiata la diplomazia? Ora la fine della guerra fredda ha fatto credo sprigionare delle nuove energie, ha certamente fatto sprigionare una capacità propositiva che la diplomazia deve fare propria e quindi dobbiamo abbandonare il concetto di rendite di posizione. Dobbiamo anche nei contesti dei partenariati e delle alleanze di cui facciamo parte essere propositivi, contribuire alla formazione delle linee di azione che a livello internazionale sono promosse. La globalizzazione inoltre comporta che nulla è estraneo all'ambasciatore, al diplomatico. Si parla di ambasciatore multitasking, dobbiamo occuparci di terrorismo, di flussi finanziari, di assistenza al cittadino, di rapporti fra stati, di accordi, di commercio e quant'altro. Questo è quello che quotidianamente ciascuno di noi è chiamato a fare. E naturalmente l'innovazione tecnologica credo sia l'altro grande elemento che ha portato degli inevitabili cambiamenti. L'innovazione tecnologica fa sì che l'informazione in quanto tale non sia più esclusiva competenza o esclusivo patrimonio della diplomazia. Anzi, molto spesso le notizie corrono molto più velocemente di quanto noi non si sia in grado di fare. Ma noi dobbiamo interpretarle, noi dobbiamo intercettare il significato, noi dobbiamo elaborare una valutazione che ci permetta di sottoporre al governo quelle che secondo noi sono le linee da perseguire, le azioni da intraprendere in maniera tempestiva. Quindi, sottolineo, diplomazia è stabilità, è crescita, è sicurezza. E dobbiamo investire. Questo è il messaggio che io vorrei lanciare a tutti voi. Noi siamo tutti orgogliosi di servire lo Stato e interpreto, ne sono certo, il pensiere di tutti i miei colleghi che sono seduti in questa sala. Voglio dirvi che la Farnesina c'è, c'è a Roma, c'è all'estero. potete contare su una rete, una rete che sempre più è un punto di riferimento sistemico per tutti i cittadini e per il nostro Paese. Buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.